Parte da venerdì 4 ottobre la navetta che collegherà i comuni della Valle dell'Irno come Mercato Sanseverino, Fisciano, Baronissi, Pellezzano ma anche il capoluogo Salerno con l'Università degli Studi attraverso un servizio notturno di Bus Italia di collegamento a favore della mobilità dei giovani in orari compatibili con l'apertura degli esercizi commerciali e di svago serale e notturno durante il fine settimana. Il nuovo servizio collegherà infatti ogni venerdì, sabato e domenica in modo rapido e diretto il campus universitario nella fascia oraria dalle 21 alle 3 di notte senza alcuna maggiorazione di prezzo con i comuni della Valle dell'Irno fino alla zona orientale di Salerno dove parte anche la nuova linea 42 metro ospedale San Leonardo via Venner con 13 corsi al giorno durante il periodo scolastico. Come ha spiegato il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, il servizio avrà una fase sperimentale fino a Natale al termine della quale si farà un bilancio per capire se è necessario apportare una rimodulazione degli orari ed anche capire se il servizio è apprezzato. Per il momento la notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai sindaci della Valle dell'Irno. È un'iniziativa a cui va il ringraziamento alla Regione Campania per averlo ripristinato. Quello di Unisa Knight come consigliere provinciale delegato ai trasporti e da sindaco del comune di Pellezzano che coinvolge il territorio della Valle dell'Irno con Baronissi, Fisciane e Mercato Sansevrino è sicuramente un'iniziativa molto importante che il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, ha voluto portare avanti. C'è una difficoltà nell'orario serale e soprattutto nel venerdì, sabato e domenica. È importante avere un collegamento con la Valle dell'Irno e con la città capoluogo dove i giovani universitari ma anche i giovani del nostro territorio si regolano nella città ma sono impossibilitati ad utilizzare il trasporto pubblico locale per poter raggiungere di nuovamente le nostre località. Quindi complimenti alla Regione Campania per questa importante iniziativa che è stata messa in campo e sicuramente anche da parte dell'amministrazione provinciale c'è un'attenzione forte sul potenziamento della rete e dei trasporti su gomma soprattutto verso la Valle dell'Irno ma anche gli altri punti della provincia di Salerno. Un servizio importante che non solo dà un servizio ai nostri studenti universitari fuori sede ma anche ai cittadini di Fisciano che hanno intenzione di spostarsi in orari particolari. Un servizio che si ripete anche quest'anno, già era partito l'anno scorso e quindi ringraziamo per questo l'onorevole Cascone e Bussi Italia per la disponibilità. La Valle dell'Irno deve essere sempre più al centro di tanti servizi perché è un territorio omogeneo, unito e coeso che dà tante risposte ai suoi cittadini ma non solo. Quindi grazie al contributo di tutti potremo diventare sempre di più un'unica comunità e quindi essere attrattivi anche verso l'esterno. Sindaco, una novità pensata per gli studenti della Valle dell'Irno che in realtà poi ha ricadute su tutto il comprensorio, compreso il comune di Salerno che potrà avvalersi di un prolungamento della linea U42. Noi sosteniamo che l'Università di Fisciano, che nel corso del tempo ha acquisito un ranking importantissimo a livello nazionale ed internazionale, è l'Università della città di Salerno. Infatti più volte insieme anche al Rettore e altri interlocutori autorevolissimi abbiamo posto il problema di inserire nel corpo della città una qualche presenza plastica dell'Università. Noi riteniamo che l'intero comprensorio, una città diffusa, Mercato San Severino, Fisciano, insomma fanno parte di una visione metropolitana che vede Salerno come capofila. Quindi unire l'Università e la città sempre più saldamente, vedremo anche nel corso del tempo, quali ulteriori interventi immaginare, è un dovere. Dare questa possibilità ai giovani di avere la possibilità di un trasporto pubblico a prezzo moderato e nelle orari notturni del venerdì, sabato e domenica per ora, è un plus che noi offriamo alle giovani generazioni, alle famiglie e a quanti poi considerano l'intero comprensorio come casa loro. Grazie. 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 Grazie.